Siamo ancora vivi, siamo ancora vivi, siamo ancora vivi Amici dello zoccolaturo, buon poveriggio Buon poveriggio da una location un po' strana Da uno zoccolino un po' dissestato Prima di iniziare vi ricordo di scaricare l'app di OneFootball Per rimanere sempre aggiornati sul mondo del calcio Per vedere tutti gli highlights, i gol e quant'altro Dove tra l'altro ho visto oggi quello che è successo ieri Perché io ieri non ho visto niente, completamente nulla Quindi oggi tranquillamente da OneFootball mi sono visto un po' almeno i highlights Almeno per dire due cose Allora non vi dirò cosa mi è successo oggi Ve lo dirò più avanti Forse ve lo dirò più avanti, non lo so Sappiate che non ho visto niente Quindi già potete immaginare Non sono a casa mia, come vedete sono a Nizza in un hotel E per fortuna sono adesso qua in hotel Quindi vuol dire che tutto alla fine è andato bene Però me la sono vista brutta 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 Quindi poi vi racconterò Un giorno vi racconterò Scusate se non ci sono stato Ma come vi ho detto Non avevo il mio telefono Non ho visto le partite Non avevo possibilità di comunicare con voi Quindi adesso ho questa possibilità E vi faccio questo mini video Giusto per farvi capire che sono vivo Che non è che sono morto Sono ancora vivo Sono qui E godo che abbiamo vinto Ho sentito dire delle cose Ho intravisto delle cose Secondo gol annullato al Deca Perché? Scrivetemelo qua sotto Perché io non l'ho ancora capito Non ho visto la partita E quindi non ho capito Perché è stato annullato il gol di Deca E il secondo tra l'altro Già il primo non avevo capito perché Anche oggi non ho capito perché Quindi già due gol doveva avere Doveva già da 35 valere 50 milioni Perché aveva fatto due gol Si parlava in maniera diversa di Deca In realtà non si sa perché Il secondo che gli annullano Non si sa perché Poi qualcuno qua sotto me lo spiegherà Perché io non l'ho ancora capito Ma io ho sentito dire un'altra cosa Cioè ragazzi Robe incredibili Cioè io ho sentito dire Che uno fa una rovesciata E viene espulso Ma ditemi che Ditemi che non è vero Cioè uno fa una rovesciata E viene espulso Cioè ragazzi Non scherzo Cioè io faccio la rovesciata E viene espulso Si gioca a calcio per fare le rovesciate Il sogno di tutti gli attaccanti del mondo E segnala la rovesciata E tu lo butti fuori Cioè Quello sta facendo la rovesciata Ma quando mai l'ha visto il difensore che arrivava Che sta Per fare la rovesciata Signor arbitro Chi era? Fabri? Sei Fabri Proprio anche con i piedi evidentemente Perché non hai mai giocato a calcio Te lo spiego io Te lo spiego io Che mi piaceva fare le rovesciate Quando fai la rovesciata Non hai tempo di vedere gli avversari Perché devi stare attento a vedere il pallone Per prenderlo Non è facile prendere un pallone in cielo Con una rovesciata Quindi tutta la tua concentrazione È sul pallone È sul pallone Non è che sei Karate Kid Che sei lì per fare arti marziali contro gli altri E no È stato imprudente Non è stato imprudente di niente È una rovesciata Cosa c'è di imprudente in una rovesciata? È una rovesciata È una rovesciata Guardi il pallone Il pallone in cielo Salti Fai andare prima la gamba Quella con cui non tiri Cioè la sinistra E poi tiri con la destra È una rovesciata Se arriva qualcuno Così Guarda come è arrivato Così A mettere la testa Mentre tu fai la rovesciata Non ti dico che fallo Di quello che ci ha messo la testa Ma sicuramente non è colpa tua Se stai facendo una rovesciata Come fai se sei espulso? Che tra l'altro mi salterà anche Napoli Oltre che ieri ci stavi facendo perdere la partita Poi Non ci siete riusciti a farcela perdere Non ci siete riusciti Perché siamo troppo forti Adesso mi salterà Adesso mi salterà Mi salterà Napoli Normale Secondo te? Tu dici E loro non hanno così meno Capito? Ma perché io non devo avere le A? Cioè Tra l'altro Non si può Non si può neanche andare al giudice Cose così E gli dice Senti ma questo Cosa l'hai buttato fuori? Noi ma era il secondo giallo Capito? Il secondo giallo è una cosa seria Il secondo giallo Non è uguale al primo giallo Il secondo giallo è una cosa seria E mentre gli albiti inizino a capirla Sta cosa qua A parte che per me le espulsioni andrebbero tolte Andrebbero fatte a tempo Vabbè Ma per me Io vivo in un altro calcio Quindi Poco da commentare Alla fine Le nostre avversarie comunque hanno vinto al novantesimo Tutte e due E vabbè Noi Abbiamo dovuto lottare come una lotta greco-romana Per fortuna che dietro abbiamo Magic Mike Abbiamo una difesa che non molla niente Anche in dieci non abbiamo mollato niente Giroud Che si sta facendo valere Grande Oliviero Bombervero Io avrei voluto vedere Origi E adesso veniamo a noi Perché Gli arbitri Va bene Cioè non va bene Però lo sappiamo Anche questa Io ve l'avevo già detto A inizio anno Quelli che mi dicevano No ma l'anno scorso Noi siamo stati sfavoriti dagli arbitri E quindi quest'anno E rimaniamo comunque più forti No Perché l'anno scorso Si è stati sfavoriti dagli arbitri Ma quest'anno sarà uguale Io già l'avevo detto a inizio anno Guarda che Quello che ci hanno fatto l'anno scorso Lo rifaranno anche quest'anno Perché noi siamo zero A livello politico Siamo zero Non contiamo niente Perché noi non ci andiamo mai a lamentare Pare Noi contiamo zero Quindi sappiate che gli errori contro Li avremo anche quest'anno State sereni State sereni Che non c'è pericolo Ci saranno Quindi state proprio sereni Che li avremo sicuramente E Nonostante tutto però Cioè Io parlo dello staff Perché qua c'è chi dà la colpa ai giocatori Cioè ormai siamo arrivati al punto Che la colpa è dei giocatori Cioè c'è gente che dà la colpa a Rebic Che non c'è mai È colpa di Rebic Lui c'ha problemi alla schiena C'ha sempre male La colpa è di Rebic Addirittura Il tifoso Piuttosto che incolpare Uno staff Evidentemente incapace Evidentemente non capace Evidentemente non all'altezza Evidentemente C'è la colpa ai giocatori C'è se io sento dire È origi È sempre rotto Sarà colpa sua? Non lo so È colpa sua? Magari è colpa sua Magari è colpa sua È colpa dei preparatori Cioè Liverpool Tolto l'ultimo infortunio Non ha avuto grandi infortuni In origini Eh ma si infortunano anche Nelle altre squadre Ho capito? Ma noi siamo una roba Una roba proprio Insieme alla Juve Perché pure la Juve Hanno staff Insieme alla Juve Siamo una roba Over Or category Come che dice per i gatti? Or category Fuori categorie Ecco il nostro staff Medico è Or category Cioè si fa male pure l'agile C'ha 18 anni È colpa sua? È colpa sua Pellegrin l'anno scorso Quest'anno mi sembra Che gioca a Torino Ma è sempre rotto Però l'anno scorso con noi Sì era proprio Non c'era neanche possibilità Vogliamo andare avanti così? Andiamo avanti così? Tanto non è colpa Dello staff Oh Le ultime 5 giornate Giocando una volta a settimana E visto che non si è fatto male a nessuno Eh hai ragione Hai ragione Hai ragione Quindi Lasciamolo là Non lo tocchiamo Tanto sanno lavorare Ci mancherebbe altro Comunque ragazzi L'abbiamo portata a casa Non l'ho vista Ma l'ho portata a casa Se riesco Stasera vi faccio una live post Juve Così almeno stiamo un po' insieme Non mi chiedete cosa mi è successo Che non ve lo dirò Almeno fino a settimana prossima Roba brutta Vi dico roba brutta Per non vedere il Milan Roba brutta E Comunque sto bene Tutto è bene Quello che finisce bene Ciao ragazzi Vi voglio bene Grazie a tutti quelli che hanno chiesto E ci sono interessati Un bacio Grazie a tutti che ho